Allora, partiamo dal presupposto che mangiare qualsiasi cosa per le sue proprietà è il motivo sbagliato per mangiare quell'alimento lì. La roba si mangia inserita in un'alimentazione corretta, sana, bilanciata e varia, quindi si mangiano le verdure nel loro complesso, non i broccoli perché sono antitumorali. Tutte le verdure tra l'altro hanno proprietà, diciamo, protettive da quel punto di vista. Ma comunque, ripeto, è sempre lo stile di vita nel suo complesso perché voglia che mangi broccoli se poi sei una persona che fuma sedentaria e sovrappeso, ok? Quindi, ah, però mangio i broccoli, sì, ok, però stai fumando, sei sedentario e sei pure in sovrappeso e voglia mangiare broccoli perché poi io ne vedo e ne sento di ogni sia nel mio lavoro ambulatoriale sia sui social che poi non ne parliamo neanche. Quindi mangiate i broccoli se vi piacciono, cioè a me piacciono un sacco e li mangio con molto piacere, però appunto sono verdure e vanno mangiate come qualsiasi altra verdura. Tornando al topic della domanda, congelare i broccoli fa perdere le proprietà nutrizionali? No, non fa perdere nessuna proprietà nutrizionale, si perde un pochino le proprietà organolettiche, cioè diventano un pochino più moscetti perché appunto congelare rompe un pochino le cellule e quindi rende un pochino più moscetti le cose, però è solo una questione organolettica e non nutrizionale. A livello nutrizionale il congelato è assolutamente pari al fresco, quindi da quel punto di vista potete tranquillamente mangiare roba surgelata, quindi le verdure così come il pesce eccetera eccetera perché non perdono le loro proprietà nutrizionali.